musica 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 sono del 92 coffee gioco a cui ti piaciuto di più competere? overwatch assolutamente overwatch eee non lo so perchè ti dà cesso in corso Ash non ho più po' l'idea let it go blow blow ho sbagliato a fare il drop porca troia giocato? mamma mia al pelo proprio non mi è entrato sotto let' ruolo sen le ha vuoi i Fliccherigno E casa bello Uno mi sta pushando Fliccherigno Fliccherigno Boom baby Boom baby Come fai ad essere parto a tutti i giochi? Perché mi applico Non ci sono segreti Non ci sono trucchi È dedizione, costanza E voglia di diventare più forte E io sul trailer di Anthem Ho visto la preview che avevano fatto Mi pare un bel gioco Ok Tieni gli sceldini E droppa il mad Ok Esegui Porco giù da là sopra E scale manco quelle di escer Però ho lasciato altri sceldini in giro Mi sa Eh C'è chi non mi serve troppo Meglio forte Sono due giochi completamente diversi My friend Uno non c'è Non c'è niente con l'altra Com'è in solo stasera No Dopo vado a fare un pochino di due Non so Sembrava persona A palese che ora qualcuno pusha Troppo building Che basta che tieni premuto E builda da solo Però Boh Non lo so L'ultima volta che l'ho fatto Mi sono trovato veramente male Uè Mirko Ma cos'è sta parte dell'arcometro Siamo a 10 Mi scaletto Let's get it Grande Bello Si illumina con le kill Bellissimo Guarda 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 Veramente sparkle Prego di niente Davvero non ci sono player Che vengono da quella zona Nah Eccolo lì uno Mi sembrava un po' strano No Comunque sto giocando di più col cecchino Perché devo imparare ad utilizzarlo Ma quanto è ambigua questo skin Perché è ambigua È la skin della guerra del sud Man Sai cosa vuol dire La skin della guerra del sud 20% e più di skill Le porte si fanno premendo G Così E fai questo Fatta Ma io lo posso fare un buco solo così? No Solo al centro si possono fare i buchi Tipo così Ok L'importante è saperle queste piccole Possono essere utili Vedo Con molto paura In realtà questo l'avrei dovuto pushare Non è un altro appare No è un altro appare No è un altro appare Oh No merda ho cioccato con i materiali Grazie per la visione 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 No, wait Grazie per la visione 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 Grazie per la visione